Sopra il luogo dei tecnici della procura sul viadotto Puleto della E45 sequestrato dallo scorso 16 gennaio per rischio crollo. Ecco le impronte che un mezzo ha lasciato sulla superstrada completamente imbiancata. Ci sono adesso da valutare bene le ipotesi presentate da ANAS. Gli ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè hanno di fatto iniziato un lavoro di calcolo e analisi sulla tenuta strutturale del viadotto. Entro pochi giorni dovrebbe arrivare la decisione sulla proposta di riapertura seppur parziale e controllata. Si tratterebbe, secondo la proposta di ANAS, di una riapertura al traffico leggero a doppio senso di marcia. La superstrada potrebbe essere riaperta nelle due corsie centrali in direzione nord e sud che hanno più sostegno sui piloni. Oltre a vietare il transito ai mezzi pesanti sarebbe introdotto anche un limite di velocità inferiore ai 90 km orari. È sostanzialmente tutta una questione di calcolo della capacità di sopportazione dei pesi da parte del viadotto Puleto e del contiguo Tevere 4, già oggetto entrambi di un progetto di restauro. Il procuratore Roberto Rossi attende adesso il pronunciamento dei suoi consulenti, ma visto che il decreto di sequestro è stato firmato dal GIP Pier Giorgio Ponticelli, l'ultima parola ovviamente sarebbe la sua. Fu lo stesso procuratore, nelle ore del sequestro, ad affermare che tutti erano ben coscienti del disagio che sarebbe stato provocato. Quindi viene da pensare che in ambiente giudiziario la notizia della possibile riapertura sarebbe accolta con gioia, ma prima viene la sicurezza dei cittadini.